Salve a tutti e siamo qui al nuovo playlist, un nuovo argomento che riguarda i youtubers. Che cosa sono il mondo youtubers? Il mondo youtubers sono tutte quelle persone, soggetti, che hanno un proprio canale qui nel mondo youtube, in modo particolare, dove esplicano le loro posizioni, le loro opinioni, le loro visualizzazioni. Noi su questa parte del nostro canale andremo a vedere che cosa ci ha colpito di questi youtubers in modo particolare. Vediamo che in tante situazioni ci sono youtubers che riguardano in modo particolare i videogiochi. Inizieremo ad approfondire proprio sulla questione dei videogiochi youtubers e non solo, e anche altre opinioni in merito. Questa è una presentazione di una parte di questo nostro canale, andrà a riguardare proprio lo youtubers in generale. Che cosa fa e quali sono soprattutto quei video che a noi ci hanno colpito. Lo riproverremo in questo nostro canale e andiamo a visualizzare in modo particolare che cosa ci ha impressionato, che cosa possono migliorare o non migliorare, o quello che possiamo noi migliorarci con il loro punto di vista. Innanzitutto vi ringrazio, questa è la prima puntata riguardante il mondo youtubers.